Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri In questa edizione del telegiornale Installati i tutor sulla statale 16 Adriatic, tra Fano e Pesaro e sulla Monte Labattese Ufficialmente sono per la sicurezza, ma per molti servono per far cassa Confermata la fiera di San Bartolomeo a Fano con la partecipazione di 250 ambulanti Sarà obbligatoria la mascherina Enrico Fatò Fidani, il nuovo proprietario della società di calcio Granata Si è presentato alla stampa in una conferenza in comune Dopo i tamponi la squadra inizierà la preparazione atletica Mentre dopo il telegiornale trasmetteremo la conferenza integrale A Pesaro la notte delle candele quest'anno si è svolta un po' sottotono Anche se lo spettacolo è stato garantito E in tanti però hanno evitato di indossare la mascherina Boris Rapa annuncia la sua ricandidatura Il consigliere uscente del PSI vanta già un record personale Non ha mai mancato ad una seduta del Consiglio Un cordele saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Sul canale 17 Allora apriamo con il tutor, anzi i tutor stradali Che sono stati installati sia sulla Monte Labattese Che sulla trafficatissima statale 16 Adriatica Sotto Monte Traffano e Pesaro Ufficialmente sono per la sicurezza degli automobilisti E in realtà in tanti sospettano che questi tutor Siano stati applicati e installati per far cassa Nuovo autovelox attivo da sabato scorso Sulla strada statale 16 in zona Sotto Monte A comunicarlo il comando di polizia locale dell'Unione Pian del Bruscolo Al fine di incrementare la sicurezza della circolazione veicolare Sulle strade interessate con maggiore indice di incidentalità I dispositivi remoti di controllo di velocità Sono stati installati nel tratto compreso Tra il chilometro 240 e 244 zona Sotto Monte In particolare i misuratori rilevano la velocità media Nella direzione Fano-Pesaro E quella istantanea nei pressi dell'autovelox Nella direzione opposta Per quanto riguarda l'autovelox Sono d'accordo È giusto sì perché così rallentano qui Ogni tanto un incidente Non riesci mai a attraversare la strada Qualche autovelox aiuterà sicuramente A stare un po' più attenti perché poi tra l'altro questa è una zona che è anche un po' pericolosa Con le macchine, molta gente esce dai parcheggi e neanche guarda Speriamo che aiutino anche su questa cosa qui Non solo sull'autovelox e sul fare le multe Dovrebbero avere un po' più occhio su altro anche secondo me Sulla Monte Labattese dove il tutor sarà attivo dalla prossima settimana È stato installato sul tratto di strada statale 746 al chilometro 200 Intersezione con via Lago Trasimeno L'installazione dei tutor frutto di una riunione del prefetto Con il comandante di polizia locale Anas Serviranno per monitorare i tratti esaminati Con caratteristiche di elevato flusso veicolare Che specialmente durante il periodo estivo Diventa caotico e pericoloso per coloro che attraversano la statale Per raggiungere gli stabilimenti balneari e attività turistiche Ci volevano perché comunque sia qui corrono come i matti Tanto una strada così ci vuole È una sicurezza in più La statale soprattutto anche nei weekend è molto trafficata È molto trafficata sì È molto trafficata e poi la sera Anche comunque quando si va via la sera Qui sfrecciano come tanto è così E quindi ci volevano Cosa buona diciamo ecco dai Altro aspetto che rimane da risolvere È il ristringimento della carreggiata Dovuto al parcheggio delle vetture ai lati della strada Che generano situazioni pericolose Per il flusso della viabilità Allora secondo me ci volevano È ovvio che possiamo rimanere fregati tutti Perché per esempio c'è un tratto Lassù vicino al ristorante Crista Ex Crista Dove bisogna andare ai 30 Onestamente credo che sia uno su mille che possa andare ai 30 Però è vero che bisogna stare attenti Invece non sta attento a nessuno Ci vorrebbero forse delle sistemazioni di parcheggio diverse È difficile dire per chi non ha le competenze tecniche e politiche Però sicuramente è un tratto di mare molto affollato E il traffico su una nazionale tanto È risultata negativa al coronavirus La turista di Torino Bloccata al porto di Ancona Il 9 agosto scorso È trasportata per accertamenti all'ospedale di Torrette La sua temperatura corporea aveva fatto registrare 37,8 Con conseguente sospetto di positività Lo riportano alcuni media locali La ragazza che si sarebbe dovuta imbarcare con il fidanzato per una vacanza in Grecia Ha ottenuto il via libera alla partenza Grazie ad un accordo tra autorità portuale e compagnie di navigazione Ai due giovani è stato trovato un posto sul traghetto di una compagnia diversa Oggi intanto sono proseguite le nuove diagnosi nelle Marche Quattro sono i nuovi positivi al Covid-19 Due sono stati rilevati in provincia di Ancona Uno in quello di Macerata E uno in provincia di Pesaro Urbino Questi casi comprendono rientri dall'estero Soggetti sintomatici e altri casi diagnosticati nel percorso sanitario I ricoverati in terapia non intensiva rimangono 11 E nelle ultime 24 ore non si registrano decessi E nelle Marche è stato stabilito un premio al personale di servizio di pulizia e sanificazione per l'impegno profuso nel periodo dell'emergenza Covid-19 Ammontano a 96.000 euro le risorse che la Giunta regionale ha assegnato agli enti del servizio sanitario Che verranno poi trasferite alle imprese appaltatrici Questa la ripartizione 66.400 euro all'Asur 11.400 all'azienda ospedaliera universitaria Ospedali riuniti di Ancona 16.000 euro all'azienda ospedaliera Marche Nord E 2.200 euro all'Inca Boris Rappa Boris Rappa l'assessorato al turismo e alla cultura della regione Marche L'auspicio e la previsione dell'assessore uscente Moreno Pieroni Presente alla conferenza stampa di presentazione del consigliere del Partito Socialista Italiano E uno dei consiglieri stacanovisti della regione Marche con il 100% delle presenze in aula Ha firmato 277 atti di cui 60 proposte di legge, 96 mozioni, 74 interrogazioni, 10 ordini del giorno e 37 risoluzioni Il consigliere uscente Boris Rappa ha presentato ieri la sua candidatura con il PSI alle prossime elezioni regionali nella lista che mette insieme anche Italia Viva, i civici ed Emos, Democrazia Solidale a sostegno di Mangialardi Rappa che durante la legislatura si è impegnato sul fronte del turismo e forte di una vita professionale nel mondo dell'ospitalità torna a puntare sullo stesso settore come strumento di crescita economica e di generazione di posti di lavoro dalle coste all'entroterra Mai tanti soldi sono ricaduti sul turismo come in questa legislatura, ha fatto notare in conferenza Erano 30 anni che il settore non riceveva finanziamenti a fondo perduto come i 30 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive Il turismo, ha proseguito Rappa, rappresenta un volano per il lavoro che comprende l'intera filiera enogastronomica e tutte le maestranze Un tassello fondamentale, ha detto, per l'indotto del territorio Chiaramente in questi cinque anni ho portato le mie competenze nel settore del turismo Uno dei settori assessorati che hanno oggettivamente avuto le performance migliori I dati lo dimostrano, siamo stati riconosciuti dalla Lonely Planet come seconda destinazione al mondo E questo non è una casualità ma il frutto del lavoro fatto in questi cinque anni Oggi metto al centro dell'agenda politica regionale il tema del lavoro Perché nella fase attuale che stiamo attraversando, nelle difficoltà economiche post-covid Penso che il lavoro debba essere il tema principale per i prossimi cinque anni Tema del lavoro declinato per il lavoro femminile, per il lavoro giovanile Ma anche per quelle fasce più deboli che in questo periodo stanno più soffrendo Che sono anche le fasce dei disabili, cioè creare delle misure, delle azioni nuove e precise Per cercare di dare un sostegno anche a livello lavorativo per queste persone Per l'assessore regionale al turismo e alla cultura Moreno Pieroni Rapa potrebbe essere il candidato ideale per prendere il testimone Pieroni che ora appunta al ruolo di sindaco a Loreto Ha ricordato gli investimenti fatti in cinque anni per il settore A partire dalla messa in sicurezza dell'aeroporto marchigiano e gli oltre 13 milioni di euro Per una serie di rotte verso le capitali europee che verranno inaugurate nel prossimo inverno Poi le piste ciclabili per le quali sono stati investiti 47 milioni di euro E la campagna promozionale anche sui media nazionali, ma non solo Utilizzare i nuovi fondi europei 2021-2027 per un investimento che arrivi almeno a 90 milioni di euro Per quello che riguarda la promozione e l'accoglienza Non ultimo, un altro impegno che ci siamo presi e che vorremmo completare tra il mese di settembre e ottobre È di far uscire il bando utilizzando i fondi per investimenti regionali Per la riqualificazione delle strutture balneari che vanno da Gabice fino a Porto d'Ascoli Quindi questo è un messaggio forte che vogliamo dare al sistema della ricettività È un obiettivo su cui noi tutti dobbiamo lavorare E soprattutto sono certo che questa maggioranza sta uscendo bene per quello che riguarda il comparto del turismo e della cultura Naturalmente tutto è migliorabile ma sono convinto che Boris sarà una figura importante in consiglio regionale E credo che abbia maturato le competenze in questi cinque anni per poter essere individuato come assessore al turismo e alla cultura dei prossimi anni Il sindaco di Fano Massimo Seri ha invece sottolineato la presenza costante e le azioni concrete messe in campo da Rapa Grazie a lui, ha detto il primo cittadino, sono stati stanziati diversi contributi che hanno permesso agli eventi locali di avere una continuità Iniziative che altrimenti sarebbero state annullate Anche per un territorio è importante avere punti di riferimenti per affrontare le tante questioni e le sue complessità Boris Rapa ha dimostrato in questi anni di essere persona seria, competente, responsabile, direi anche umile e onesta Sono elementi importanti e competenti in modo specifico su settori come quello del turismo Ovviamente il nostro territorio è molto sensibile a questo comparto E penso che possa continuare a dare un contributo significativo per la nostra città, per il nostro territorio La Guardia di Finanza di Ancona e l'Ufficio Dogane hanno sequestrato al porto 10.000 mascherine filtranti in stoffa I dispositivi di protezione non riportavano indicazioni d'origine ed erano confezionate in lingua italiana Con riferimento ad un rivenditore italiano ma provenivano dall'Albania La falsa indicazione che poteva ingannare i consumatori ha fatto scattare il sequestro della merce Il reato è punibile con una sanzione pecuniaria da 10.250.000 euro Intanto il destinatario della merce è stato segnalato alla Camera di Commercio Questa mattina si è presentato alla stampa Enrico Fattò Offidani Che è il nuovo proprietario dell'Alma Juventus Fano, la squadra di calcio della città Insieme a lui c'era anche il responsabile dell'area tecnica Insieme hanno illustrato le strategie della società Intanto dopo i tamponi ai giocatori Granata la prossima settimana partirà la nuova stagione ufficialmente del Fano Calcio Simona Zunghetti Per me è l'esordio assoluto Conferenza stampa da Presidente C'è positività e voglia di mettersi in gioco L'imprenditore italo-canadese Enrico Fattò Offidani, 52 anni Ha illustrato le linee guida della società dopo l'acquisto del 100% delle quote Questa mattina in Comune a Fano si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo proprietario dell'Alma Juventus Fano La quale dopo nove anni di gestione dell'ormai ex Presidente Gabellini è passata al nuovo patron Presenti il responsabile dell'area tecnica Mauro Traini Il direttore generale Simone Bernardini Il sindaco di Fano Seri E l'assessore allo sport Caterina Delbianco La società, ha spiegato Offidani, è stata gestita in maniera impeccabile Ed ora metteremo in campo un progetto triennale Che possa darle la possibilità di evolversi e raggiungere mette sempre più importanti Gli obiettivi saranno quelli di una comunicazione continua E di un grande lavoro da portare a termine con determinazione Sarò sempre presente, ha precisato il neopatron Che questa mattina ha incontrato anche i tifosi Mi hanno solamente detto, Presidente, in bocca al lupo Mi raccomando, lavoro, voglia di fare Che qui la sosteneremo tutti quanti Io ho detto, no, dobbiamo sostenere tutti quanti il Fano E quella è la cosa che conta Come mai questo investimento in un momento così difficile per l'italiano e non solo? Beh, come avevo accennato nella conferenza stampa I momenti di crisi, se gestiti in maniera oculata e intelligente Con persone che siano competenti nel loro settore Possono essere invece un volano per poi ripartire Ho pensato che nell'ambito della diversificazione delle attività che ho In Italia in questo momento non ho delle attività vigenti Però affronterà, detto, questa avventura con il suo patrimonio, quello personale? Sì, sì, quello personale, mio personale, sì In conclusione che cosa si auspica? Ma io mi auspico che le premesse, che sono tutte positive Poi possano concretizzarsi a breve nel lavoro Nel senso di vedere già all'opera le sinergie Per le quali noi abbiamo fatto richiesta Abbiamo visto che sia il sindaco, che il vice sindaco, che l'assessore allo sport Si sono messi veramente a disposizione Per quanto riguarda lo staff che ho incontrato e che abbiamo confermato in toto Ci siamo trovati in sintonia subito Persone squisite C'è maniera di lavorare bene E speriamo, questo il mio auspicio è questo Di lavorare correttamente, positivamente La squadra non verrà smantellata Ha precisato invece Traini La prima finalità è il mantenimento della categoria Sicuramente cercheremo di migliorare È facile dire migliorare quello che è successo negli ultimi due anni Perché c'era stata una retrocessione, una salvezza molto importante Però devo dire che quest'anno la squadra ha dimostrato E prima del Covid E alla ripresa con lo spareggio Di avere delle individualità importanti Quindi noi abbiamo fatto di tutto Per mantenere i ragazzi che si sono adoperati tantissimo E che sono buoni giocatori Come diceva il mister Miglioreremo questa squadra per far bene E per sicuramente buttare le basi Per quello che poi sarà il futuro anche del Fano Quindi cominceremo a lavorare Innestando dentro giocatori validi pian pianino E non certamente tutti in un colpo Perché poi la programmazione è la cosa più importante Continuerete a collaborare anche con il settore giovanile? No, beh il settore giovanile Siccome è un po' diviso Nel senso che l'Accademia è una proprietà Anche se poi è affidata a noi Il settore giovanile Di una società professionista come Fano Deve tirar fuori Non dico ogni anno Almeno dal secondo anno in poi Deve tirar fuori dei ragazzi giovani Soprattutto del posto e anche di fuori Che possono approdare in prima squadra O essere ceduti per fare plus valenze Verranno eseguiti dei tamponi E poi quando si partirà ufficialmente? Beh guarda I tamponi sicuramente saranno fatti Fra qualche giorno C'è tutto lo staff sanitario E medico che sta lavorando Il mister vorrebbe partire il 17 Appunto con i tamponi Per poi arricarci in ritiro Io penso che tra il 17 e il 18 Si partirà per questa nuova stagione E il Comune di Fano ha detto sì Alla fiera di San Bartolomeo Uno degli appuntamenti più antichi della città In tutto ci saranno 250 ambulanti Ovviamente tante saranno le indicazioni Per il mantenimento delle distanze e quant'altro Ma sarà obbligatorio Per chi andrà alla fiera di San Bartolomeo L'uso della mascherina La storica fiera di San Bartolomeo a Fano Quest'anno si farà In programma il 24, 25 e 26 agosto Tutta la zona Sassonia Comprese via Dante Alighieri E viale Adriatico Potranno contare sugli oltre 250 espositori Che proporranno al pubblico Tutta una serie di merci di qualsiasi genere Dall'abbigliamento ai giocattoli Alle novità per la casa E all'oggetto più richiesto del momento Un appuntamento voluto fortemente dall'amministrazione Nonostante il periodo Covid Ma che vedrà delle norme ben precise da seguire Sì assolutamente È stata confermata Come tra l'altro l'avevamo già inserita nel programma Anche perché per noi è importantissimo Mantenere questa tradizione Far lavorare le persone che ci sono attorno a questo comparto E tra l'altro direi che le richieste ne arrivano tantissime Quindi siamo molto contenti Si farà ovviamente nel rispetto di tutte le precauzioni Covid Che ci sono al momento Quindi ci sarà l'obbligo della mascherina Ci sarà l'obbligo del distanziamento fisico Attiveremo tutta una serie di situazioni e controlli Insieme alla protezione civile Come ad esempio la disponibilità del gel sanificatore nel percorso O come dei cartelli che riportano le modalità di comportamento O la distribuzione di brochure Che richiamano come comportarsi all'interno della fiera Quindi un'attenzione particolare per il periodo che stiamo vivendo Ma riteniamo opportuno che insomma la fiera debba andare avanti Come tutte le tradizioni che siamo riusciti in qualche modo a mandare avanti Durante le giornate della fiera La polizia locale di Fano insieme alla protezione civile del CB Club Mattei Controlleranno il distanziamento fisico e l'obbligo della mascherina Il percorso sarà libero ma ovviamente dobbiamo rispettare tutte le precauzioni Soprattutto quanto ci avviciniamo ai banchi Quindi sarà importante soprattutto se si vuol toccare la merce Sanificare le mani prima di toccarle Rispettare il distanziamento fisico E insomma avvicinarsi ai banchi con il rispetto di tutte le norme Covid Il servizio era di Filippo Pucci Adesso invece andiamo a Pesaro dove ieri sera abbiamo seguito Con la nostra troupe l'evento Candele sotto le stelle Un evento un po' sottotono ma comunque sempre bello Oltre 15 quintali di fiammelle hanno invaso il litorale da Fosso Seiore a Gabicce Mare Passando per le spiagge libere di Sottomonte, Fiorenzoale e Vallugola Ampliato con ben 9 km in più di costa rispetto alle precedenti edizioni E 1200 Candele posizionate in acqua Creando un'atmosfera suggestiva con spettacoli di luce Così si è conclusa l'edizione di Candele sotto le stelle Un format dove non è mancata l'atmosfera suggestiva della serata Ovvero la cena sulla battigia di tutte le spiagge coinvolte Abbiamo appena scoperto questo evento che fanno la sera E rende la città comunque molto molto bella Beh la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri sta facendo, sta cercando di far partire la lanterna Vedi però non parte Adesso ne prendiamo un'altra e cerchiamo di far partire l'altra perché questa si è ruta Come sta proseguendo questa serata? È andata benissimo, abbiamo mangiato bene, bevuto Adesso prendiamo il caffè, poi fra poco andiamo a casa Una serata in famiglia? Sì tutti in famiglia e con gli amici Molto bene Una serata in famiglia, dunque si è cenato? Sì tutti gli amici Sulla spiaggia Sulla spiaggia Queste misure anti-covid hanno un po' spaventato questa sera? Tanto, come vedi siamo abbastanza distanziati Però siamo stati bene lo stesso in compagnia È una serata per i nostri clienti È andato tutto bene, è molto più soft, tranquilla, senza musica Diciamo solo una cena tra amici alla fine ecco Siamo abituati a un'altra notte delle candele Con la musica, con il divertimento Con la possibilità insomma di stare e divertirsi tutti insieme I nostri clienti sono molto contenti E questo per noi è già un grande successo, diciamo così Chiaramente non è come la prima edizione Però facciamo del nostro meglio Per far sì che la nostra clientela rimanga contenta Il stanziamento sociale viene rispettato, si riesce a rispettare? Allora noi non facciamo altro che ripeterlo tutti i giorni Ci sono i ragazzi che fanno più fatica a rispettare il distanziamento sociale E diciamo che con l'aiuto delle persone più adulte cerchiamo di educarli La cena a lume di Candela è stata agliettata anche dalle luci di alcune canoe Dirette all'orizzonte che hanno affascinato la vista Quest'anno non sono stati previsti spettacoli itineranti Un evento scandito da un'ordinanza comunale Che prevedeva l'obbligo di mascherine nelle aree Di pertinenza dei pubblici esercizi Stabilimenti balneari e aree urbane Evitando assembramenti e veto dei balli di gruppo Dove però le prescrizioni sono diventate solo un ricordo In diversi stabilimenti alcuni componenti del popolo in bianco Non è riuscito a resistere al richiamo della notte E si sono lasciati in bali di gruppo e in barbal di vieto Non è mancato chi è stato ligio alle regole anti-covid Alcuni si sono ritrovati a tavola con la propria gruppa In riva al mare solo con la famiglia Noi siamo appena arrivati quindi dovreste parlare con loro Che hanno organizzato tutto Un bel evento, insomma, positivo Bellissimo Positivo, positivo Si sta benissimo, si sta da Dio Cosa avete organizzato per questa serata? Un menù? Una cena, noi siamo i ritardatari Tutto e di più Tutto e di più Tutto e di più Ma benissimo sta procedendo Molto gradevole, in compagnia piacevole Come vede con una tavola molto imbandita Una gruppa organizzata con chi? Tra amici A presidiare sulla festa c'erano agenti della polizia municipale Che hanno dovuto sorvegliare un nutrito gruppo di ragazzi Intenti a fare il bagno di notte È un po' più soft, come è giusto che sia quest'anno Ma sempre magica L'atmosfera delle candele sul mare Davvero rende tutto più bello Con le persone vestite di bianco Poi stasera davvero una serata calda Senza vento, perfetta per le candele È chiaro che l'abbiamo dovuto organizzare In maniera un po' ridimensionata Rispetto agli altri anni Perché dobbiamo tenere la guardia alta Devo dire che ho visto cene tutte ben organizzate Dal prossimo anno la faremo ancora più bella Più partecipata Piena di musica Quest'anno un po' meno Però comunque sia sempre bella E sempre comunque tanto partecipata Seppur su 9 km di spiaggia E quindi sparsi e distanziati Ma comunque sempre molto Partesipi rispetto a un evento davvero unico Unico nel mondo E siamo molto contenti Che nonostante tutto siamo riusciti a organizzarlo anche quest'anno E questo era il nostro ultimo servizio in scaletta Vi ricordo che dopo il telegiornale Andrà in onda uno speciale politico La candidatura di Federico Talè di Italia Viva Che ha come ospite il leader Matteo Renzi E poi la conferenza stampa Quindi l'integrale del nuovo presidente dell'Alma Juventus Fano Enrico Fatto Offidane È tutto Grazie per averci seguito Arrivederci a domani Grazie per averci seguito